Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Prima che inizi il video vero e proprio vorrei fare un piccolo annuncio Vale a dire che ogni lunedì alle 18 c'è la premiere della serie di Game of Thrones in Minecraft In cui andiamo a visitare tutte le location più importanti della serie tv della HBO Mi raccomando se ti sei perso quello di questa settimana Puoi recuperare il video e lo trovi nella playlist corrispondente Detto ciò vi lascio al video, buona visione Salve a tutti ragazzi e bentornati in Potterworld Lol, lol, che bello eh, che bello Io ogni volta, allora a me piace un sacco questa cosa che, cioè ormai è diventata una meme Se io cominciassi a portare Potterworld ogni settimana o robe del genere Non mettetevi in testa strane idee, non lo farò mai Però perderei questa cosa qui della meme, del fatto che io ogni cavolo di volta mi devo fare lo spiegore Cioè vi devo fare lo spiegone all'inizio di Potterworld Del perché ogni volta non porto la serie Bella eh, bella comunque, bentornati So che tu, proprio tu, non hai visto gli altri video dall'ultimo video di Potterworld che ho caricato Proprio tu, hai tirato anche un cazzotto al microfono Perfetto E ti invito adesso, adesso proprio in questo momento Tu hai già messo like, ti ho già visto, tu adesso Sei già sceso lì col cursore del mouse, hai già messo like Io lo so già, perché è tornato a Potterworld Quindi adesso, solite cazzate dette proprio all'inizio di questo nuovo episodio Voglio vedere cosa, cosa accidenti che c'è, nel senso che succe qui dentro Stanno praticamente rifacendo Ah, vabbè, però noi siamo stati bravi Allora adesso ho capito che cos'è Praticamente è il riassunto di tutto quello che è successo su Potterworld durante questa stagione Ok, questa stagione del server, quest'anno di server Solo che noi siamo stati bravi Cioè almeno io sono stato bravo a portarvi la serie Almeno durante gli eventi principali Quindi mi pare che Halloween, Natale e San Valentino Gli abbiamo visti Adesso non vorrei confondermi con gli anni passati Perché sarei anche capace di confondermi conoscendomi Però in teoria sì In teoria sì E tra l'altro, allora adesso a parte il fatto che vorrei tipo dare un attimino un'occhiata A tutte quanti i nuovi teletrasporti Le cose fighe che hanno aggiunto Che sicuramente io mi sono perso Però vorrei anche poi parlare di una certa cosa Quindi tipo, vediamo Ai territori di Hogwarts Come cacchio l'ho detto? What? Di Hogwarts non hanno aggiunto nulla Sì però non devo lanciare gli incantesimi passivi Devo lanciargli questi E poi ammazzarlo tutto quanto Sto lupo mannaro Eh? Puttanella Dai Però sì E... Pensavo tra l'altro Di portarvi il The Blind Pig Che succe? Ok Di portarvi il The Blind Pig Questo venerdì E quindi Oddio Ragazzi sono morto? Chi è che mi ha ucciso? Non mi ha colpito nessuno Va bene Grazie mille Potterworld Poi capite perché io non... Uccidetemi Uccidetemi Tra l'altro io pensavo di iniziare una mini serie Un qualcosa del genere Magari su delle mappe O cose di questo tipo Quindi eventualmente Se avete delle mappe carine Brevi perché devono durare poco Devono essere molto concise Tipo serie di 3-4 episodi E poi si va a un'altra mappa Ditemelo in un commento qui sotto Che così almeno provvederò a portarvi nuovi contenuti sul canale Quindi restate sintonizzati Ragazzi sto perdendo la pazienza Perché nel frattempo sono morto un'altra volta Qui è tutto quanto un casino Stavolta mi ha sciottato tipo una sorta di verme strano Tipo quel... Quello small worm che c'era là all'inizio Non mi ricordo più com'è che si chiamava Però è una roba del genere Un pochino più grassottello Ecco mi ha ucciso lui Quindi è una bella situazione insomma no? Motivo per cui me ne torno qui E voglio provare a vedere Se c'è qualche cosina caruccia da fare qua Tipo andiamo a Natale Vai voglio vedere Natale Si può in qualche modo teletrasportarsi Nel periodo storico di Natale? Mi sa di no Felice anniversario Sì però io volevo vedere Ma che barba Allora io però A parte il fatto che ho l'incantesimo dell'anniversario Quindi se faccio così Yes È il quinto anno di Potterworld tra l'altro Fico Molto fico Vediamo le quest di oggi Ok quanto pare la missione del giorno È quella di praticamente andare A trovare l'ufficio del signor oscuro Una roba del genere Non pensavo che Voldemort avesse un ufficio Quindi diciamo che evito Perché vorrei evitare di essere shottato malamente Ancora per l'ennesima volta Se riesco a trovare Fatemi vedere Il ministero Eccolo qui Perché sono curioso di vedere Se hanno introdotto qualche nuova stanza al ministero Che è tipo uno delle mie location preferite Perché guardate che figo il ministero della magia Low enforcement Cos'è questa cosa? Auror lock Uh raga Però mi sa che non dovrei esserci qui Ok sì Effettivamente hanno aggiunto tutta quanta una nuova zona Fico Molto fico Allora sapete cosa faccio? Mi metto qua e le esploro proprio tipo tutta quanta Wizard Maghi Ok Il gabinetto Oddio dimmi che posso Ti prego dimmi che posso Ok sì posso sedermi Fantastico No però speravo che Tipo potessi entrare nel gabinetto Effettivamente come in Avete presente In Nei doni della morte Che tipo I personaggi entrano Nel gabinetto Vengono teletrasportati da qualche parte Fichissimo Che poi in quel caso entrano E vanno nel ministero della magia Noi nel ministero ci siamo già Però magari tipo Mi avrebbe portato da qualche parte di strano Boh non lo so Sto sparando a cazzate Però sarebbe stato figo effettivamente Qui cos'è? Ah Attenzione Qui c'è l'ufficio di Dolores Umbridge A proposito di doni della morte E qui c'è Eh sì c'è l'occhio di malocchio moody qui Avete presente questa scena Nei doni della morte vero? Ti salto sulla scrivania Umbridge Ok E Scusa non volevo T'ho preso Sono bravissimo in trasfigurazione comunque Avete visto? Cioè è veramente pazzesco no? Comunque Anzi guardate un po' Tipo Pam E pam Bello Bellissimo Guarda aspetta Sbam Ottimo Sto buggando tutto quanto Anzi aspetta un po' Tipo se io faccio Così Così E poi Così E così Lol Va bene Ho buggato tutto quanto Però apparentemente si hanno aggiunto tutte quante delle nuove zone Visto? Ve l'avevo detto che valeva la pena di andare Al ministero della magia Ci sono sempre un sacco di cose misteriose e interessanti Che poi tra l'altro mi sono sempre chiesto Ma proprio nella storia di Harry Potter Ok I dipendenti del ministero Come cacchio fanno a orientarsi in questo posto? Cioè è tutto quanto uguale Tutto quanto verde Senza cartelli Senza indicazioni Senza nulla Sono alquanto confuso Però adesso ritorno agli elevator Ufficio misteri Ok Ok Questa cosa si pronuncia essere molto figa Cosa sta roba? Un cuore Lo premo Che è successo? Che è successo? Boh Cose gigantesche succedono E qui c'è una Parete misteriosa Con una sorta di Sfera di cristallo Voglio subito andare a vedere di cosa si tratta Aurorlock Però mi sa che da questa parte non posso andarci Sala delle profezie Ci vado subito Ma tipo a lista Ho come l'impressione che non dovrei esserci qui Oh mio dio Che ansia Oh my god Questa cosa È troppo inquietante Ok Allora Esistono tipo delle profezie Sui player Magari che ne so Trovo una sfera di cristallo Che porta il nome del Cioè il nome del mio 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 Tipo Il mio nickname Aiuto Aiuto Io ho come l'impressione che spunti In un mangiamorte da un momento all'altro Io me lo sento Quindi magari tengo anche pronta la bacchetta Che non si sa mai No Mi servirebbe L'incantesimo Lumos Ok perfetto Così si vede tutto Molto bene Vorrei vedere Se riesco a trovare qualcosa Interessante In questo posto Oppure se è tutto quanto Semplicemente una roba decorativa Che poi badate bene Potrebbe anche essere Tipo una roba Che si triggera Che si triggera Soltanto che ne so Se ci sono un certo numero di giocatori Oppure Guarda un po' Studenti sorteggiati in corvo nero Qui tecnicamente ci dovrei essere anch'io No Effettivamente non c'è nulla Cioè sono praticamente soltanto delle robe decorative E Va bene Va bene Dai mi aspettavo di più Però è figo È ugualmente figo Ora il problema è tornare All'inizio Come ci torna all'inizio Aiuto Ok ragazzi Sono riuscito ad uscire Scusate il gioco di parole Dall'ufficio misteri O meglio da quell'ala Dell'ufficio misteri Praticamente la stanza delle profezie E sono ritornata da questa parte Ok dove c'è semplicemente un ufficio E perché vorrei vedere se ci sono tipo tutte quante le altre stanze Allora lì è la sala delle profezie Non ci torno più perché fa paura Questa cosa non ne capisco il senso E da questa parte si ritorna all'inizio Ok va bene Sicuramente c'è qualcosa che mi sto perdendo ragazzi Quindi se voi sapete meglio come funziona tutta quanta questa cosa Fatemelo sapere Dove sono arrivato? Sono arrivato nel tribunale Ottimo Bene 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 perfetto Ok ragazzi allora dire che per questo video è tutto Io spero che vi sia piaciuto Spero che siete state contenti del ritorno di Potterworld Io spero di riuscire a portarvelo in tempo Per che ne so Un prossimo evento particolare E non tipo fra sei mesi Qui c'è un interruttore Che mi porta di nuovo agli elevatori Cioè agli elevatori Sì buonanotte Agli ascensori Agli elevators Sono ascensori non elevatori Per il momento invece vi invito a lasciare un like A commentare A condividere A iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto A passare in descrizione Dove troverete il link Del canale di Telegram E noi ci vediamo in un prossimo video Stay care And I'll see you next time Ciao Ciao